L'esercito romano era noto per la sua disciplina e, per mantenere tale disciplina, usava metodi piuttosto crudeli. La decimazione o decimazio era l'esercizio disciplinare più violento applicato alle legioni romane. Si trattava di una punizione estremamente severa usata contro i soldati delle legioni in caso di codardia, ammutinamento, insubordinazione o sconfitte umilianti. L'atto consisteva nel dividere i soldati in gruppi di dieci uomini e poi veniva scelto un uomo che sarebbe stato picchiato o lapidato a morte dai rimanenti nove. I sopravvissuti furono costretti a dormire fuori dall'accampamento delle legioni, rischiando di essere catturati dai nemici. Il caso più famoso di decimazione fu quando la legione Tebea, composta da cristiani, si rifiutò di eseguire l'ordine di perseguitare altri cristiani. Subirono due turni di decimazione, ma non perseguitarono i loro fratelli di fede.